Ok, ci siamo, adesso faremo la sorpresa a Bubi, questo regalino di Natale. E' un regalone! E' un regalone, eh, ragazzi. Ce la faccio? Ce la faccio? Non mi affa. Ci passo. Vediamo questo regalo. Non ci passiamo. Buon Natale Bubi! Auguri! Che bello! Che taccone grande! Un regalino per te! Un regalone! Vediamo, vediamo! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Lo scuattere troppo perché è delicato! Il vaccino non lo dai! Che passione! Il bigliettino! Il bigliettino lo leggi dopo! Ma cosa c'è dentro? Io lo ando! Ma hai detto di aspettare, scusa! E' Katia! Che c***o! Eh? E' c***o! E' c***o! E' c***o! E' c***o! E' c***o! E' c***o! Ti parchi avanti! Ciao! 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 Buongiorno! 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 Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Ma quanto scatto c'è? Che bello! Che bello! Le coprette! Se è mezzo a scatola odio! Che regaloni! Ma cosa c'è? Fatto il regalino a buio! Un regalino a buio! Siii! Wow! Che bello! Wow! Un regalo! C'è un altro pacchetto dentro, che bello! Wow, il karaoke! Ah, scusa. Il cantatù! Leo! Bello il cantatù! Wow! Wow! Ma quanti regali, Bubi! Ma tutti tu! Ma cos'è? Vans! Le scarpe! Pure le scarpe, Bubi! Wow! Ma quanti regali, Bubi! Uno dentro l'altro! Ma una palanga, Bubi! Scatoli regali! Le scarpe! Wow! Wow! Un altro regalo! Ma sono tutti per te, Bubi! Sono fino a sono scatole! Vabbè, ma l'importante è il pensiero, guarda qua! Che bello! Questo cos'è? Questo è il più bello! Wow! Ma com'è possibile? Bubi quanti regali! Mamma mia! Dai, questo è vero! Ma wow! Wow! Un'altra scatola! Bellissima questa! Guarda, pure chiuso me! Che scatola è questa? È lei, sicuramente! No! Wow! Bello! Bellissimo! Vai, vai! E' quello buono? Questo è quello buono! E' questo! E' un telefono sicuro! Cellulare! Bello! 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 Ma questa è quella che abbiamo già, Katia! Un'altra! Un'altra macchina fotografica! Una in più! Wow! Ma devi fare la piramide! Ma alla fine non c'è! L'iPhone! Wow! L'iPhone! Un altro S, raga! Wow! Un altro S, raga! Wow! Un altro pacchetto regalo! Questo? Basta! Questo è quello buono! Ma è questo? Buono! E' buono! Dai! SICCIULA! No! Un altro regalo! No! Un altro! Ma quanti? Quanti regali, Bubi? Ma dai! Sono tutti per te! Cos'è? Delle batterie! Ah! Belle! No! Attenzione! I soldi! Siamo arrivati ai soldi! Sono soldi! L'assegno! Occhio non strapparlo! Ok! Ok! Bellissimo! Ecco il regalo più grande che potremmo farti! Il mio amore! 12! Ed ecco il regalo più forte! E' costume! E' bravo! Bravo Archite! E' Karoless! E' bellissimo! Mü 99 I pros! I pros! Bi no N, C'è ballot hot Ma come è fatto tra tutte le scatole precise Ho tante scarpe Ma precise Facevo fatica a tirarle fuori Raga buon Natale iscrivetevi al canale Mettete like a questo bellissimo scherzo E fatelo anche voi perché è troppo divertente Pazzo Auguri Auguri